Eccolo! E' bianco, bianco! Chico comincia i giochi e poi se rompe in scala Soprattutto i giochi dove gli devi stare dietro, devi leggere, devi fare... Non c'ha poco Guarda, a darti se voglia cosa non devi fare è venire Porco zio, Daniele, proprio lì si è atterato, incredibile Ma guarda, c'è chi non era troppo c'è Un pezzo di merda devi prendere la clima C'è uno, c'è uno, c'è uno, c'è uno Gente, due Ho trovato una mitraglietta Oh, guarda! Tashi mi ha fatto caga sotto Eccolo, vieni, ce lo facciamo Vieni sotto, vieni sotto, sta sotto Eccolo, sta qua lui E' una porta aperta Non lo vedo Lo penso che cammina sopra L'avete trovato? Avevano trovato uno fuori Uno l'ho sbagliato, stava qua fuori però C'era uno mi sta sparando violentemente da un'altra Ma da dove mi sparano poi? Davide uno sta da parte tua Davide uno sta da parte tua Eccolo dietro l'albero Davide Segalo O c'hai davanti Davide? Tutto c'è quello qui No, maledetto, fa me la prende a me l'arma Scusa, ammassi le pibule l'arma Eccolo Davide, vieni con me L'ho visto Aspetta un attimo Eh, eccolo No, questa è botta Sbagliato un altro Sbagliato un altro Sbagliato un altro Davide io ho uno armi No, mi stiamo scappando due Sali, sai sopra Matteo l'ho ammazzato Gli manca un solo colpo Si, c'ho 11 colpi, dai Io zero, io zero Lo ammazzi con colpo Con colpo Ok, non male Ok, non male Scusa, è vero Mentre fermi le curo Davide Ma riga quando inizierai a giocare fa che mi fisco Aspetta, io le fisco Non ce lo volemo levar sto via via a te No, vorrei che magari... Ma vedi, quando provo un'arma trovo pure io Senti, io c'ho una mappa, però non c'ho neanche un colpo Eh, allora andiamo a apriare il calaccio è stato Io c'ho una mappa, riga, venite Pure tu c'è la mappa, fannammo Ok, giro, fannammo se la fa tutte Oh Davide, ma Davide sta andando da un'altra parte Dove? Davide stai andando alla mappa? Sì Allora aspetti, io vengo a te Dove stanno le montagne? Gente chi? Gente a destra No, no, no Se botte Vai dritto, vai dritto Non te ferma Davide aspetta mi che crepi Lì c'è la taglia Davide non andare che muori No, chi è? Vado, c'è un sacco di gente qua Non ci potremmo andare da me Eh, c'è la mappa, c'è la taglia lì Eh, no, fermate, fermate che non ci potremmo andare No, ma dov'hai? Ma vieni Guarda quel demente Ritorniamo alla mappa? Sto bene Qua c'è la jump chi? Perché non hai presa? C'è la jump qua C'è un sacco di gente C'è un sacco di gente Non mi abbandonare Resta qua con me Sopra sa Davideacone1 lass C'è una squadra a terra lì che sto dando via Venite da noi Venite da noi vieni qua vieni qua vieni qua salta con me aspetta la chiara macchina dava da più al cuore su noi no c'ho la zona c'ho la jump vieni con me aspetta più forte ho capito che c'è la jump la poteva usare la porta sola c'è gente c'è gente che ecco mi arrivo a cremare non c'è un colpo e allora fermate stanno a sparare i tuoi come sei davide me l'ho perso e uno mi sta sparata da guarda guarda lì c'è un altro stanno sopra la collina che stiamo tutta bucate ma tu stai sto accanto aspetta 20 20 uno è quasi morto ma che sta la ma stava qua la mappa ecco la mappa no ne puoi via una sola ne puoi via uno è scuso per terra sbagliato no stanno tutto e due laggiù la trovata eccola eccola non è già un peccato vanno a sappiato a europa o sta arrivando se la piapposano fanno tre mi stanno pure fuori si siamo fatti vabbè che a questo mi ha detto che a questo scopo del cittadino sali 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 mi ha detto ne posso da un po vai a segnalino viola che c'è un'altra mappa io smonto sta macchina più questa io sono a giampe io c'ho la macchina conviene che salite subito però ce la ce l'ho quello dovete salire scendiamo qua ho sparato non ho capito da dove ecco le regole fra sotto uno sbagliato io cerco di fiammi un attimo pure se mi servono due munizioni riga forca troia guarda la sua messa porta via e splash poi viene ok lo spider mannate cosa una spara qua davanti come venite perché siete fatti via da set perché mi sentivano due colpi ma ho trovati proprio due tra l'altro tutta le per terra i corpi lanciamissili di noi e corpi proprio inutile da meno curata ma colpi lanciamissili prego si si va subito se ce l'ho ci sono dieci fermate oh costruita posto andammo vai oh ma assoluto oh ma assoluto ho fatto zero chi lo avete giocato solo voi pensa se vincevo no ho un inventario vuoto allora c'è un altro cazzo che cosa del lupo ragazza davide perché state la su voi di costano la giu loro no hanno restato qua lo spider me la casa te davide stanno qua namun safe regalo namun safe abbiamo lo spider man a destra però non lo vedo due spider man ecco vola guarda entramo nella casa regatta temeretta entriamo nella casa entriamo in questa casa poi decidiamo entriamo qui e poi decidiamo pieno di gente sono dodici famoli non batte entrate entrate dentro no non usci oh ecco li dai cazzo hanno sovra a tetto stanno pure sovra a tetto li vedevo stavano sovra a tetto di sopra li vedevo mo se ne son nati state pure accucciati c'è uno spiderman che c'è il sompetto addosso siamo rimasti 9 rega quindi c'è la squadra più un altro un altro squadre mi schiava costruito non abbiamo sul tetto destagata io direi da una casa blu quella che c'è stata avanti sta dentro la sita rega c'è siede quale questa qua davanti questa insiste quella la aspetta un attimo sul tetto 21 secondi c'è sappia di campo aspettato e mamma vai anzi andiamo al burger king che se non lo stavo sei fatti ne sono nati ho chiamata io via la taglia via la taglia per quanto stanno ecco se si sparano ma siamo un vantaggio se si sparano siamo il netto vantaggio perché vuol dire che sono due squadre ancora quindi rimarremo rimarremo avvantaggiati stanno a camper e chi laggiù mi sa che è rimasta una squadra terra c'è uno spiderman qua eccolo 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 ecco qua davanti è passato qua davanti sta sul tetto dalla casa bravo 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 la zianetà adesso sparo io eh ah ecco ho preso una volta ho preso davide non andarla da solo a terra uno anche l'altro anche l'altro dai dai veniamo usciamo usciamo tosse davide col ferro sto fio de mignotta usciamo lo so davide tutti insieme la rica lo sta lega dai 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 o ammazzate questo è uno solo adesso perché era la faccia curante tale va troppo quella davide e dove delle santi come del via lo piano piano butto dentro butto dentro mi rimane uno raga la colla giù dietro l'albero io adesso davide si è stata resta voi spara ma te collo vedi la colla giù lo seccato in una maniera incredibile davide ce l'hai per curate ho fatto ho fatto già ditemi cosa sta l'ho fatto amico io provo a push up che troppo te vai 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 a colla ti è disastro aspetta faccio il giro faccio il giro da qua doppio venti è salito mattè si ho visto ha costruito ha costruito sta dentro no è sceso sceso sotto è chiuso colpo si è buttato dentro la casa potete restare camme potete restare sono andato ma adesso sono davide qui sotto danniamo a testa qui dietro a te dietro a te dove sei andato dentro la casa qua sotto capito è andato dentro la casa qua sotto è passato noi siamo in piena safe quindi siamo tranquilli e siamo qua non lo vedo siamo davide curiamolo eccolo e bianco e bianco dove ne dite dove sta sotto ecco la guarda la testa no ma hai fatto casca a me ho citato sulla sinistra eccolo 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 qua eccolo qua Grazie a tutti.